Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo video della skyblock infinity Allora se sono cominciato così è perché sto per andare a una cena in cui bisognava vi spiego una cena Creativa mentre ci saranno delle storie questa sera riguardo sui nostri profili instagram andiamo Ci saranno un teammates e altra gente come sapete noi abbiamo un'agenzia con cui lavoriamo che è un'agenzia diciamo Di pubblicità ma creativa in generale ecco ci hanno fatto questa cena organizzato questa cena in cui il tema è Vestirsi da quello che secondo te Saresti diventato se non fossi ciò che sei quindi io ho detto ma Probabilmente se non fossi Diciamo riuscito nel mio tentativo di carriera con youtube e tutto ciò che che va attorno a youtube Probabilmente avrei tipo terminato gli studi in qualche modo e Sarei finito a lavorare o in qualche azienda o in qualche modo se avessi avuto fortuna avrei voluto creare la mia azienda In qualche in qualche settore o comunque vabbè lavorare con un completo Ok nel senso in ufficio o qualcosa del genere e quindi mi son vestito così e visto che Niente questa volevo spiegarvelo detto questo Allora quest'oggi sono curioso voglio andare a prendere queste due coordinate e capire che cosa significano quindi andiamo a meno 150 Meno 150 50 150 l'altro invece è 150 meno 50 è un po' un casino stroba forse necessito di più Più cobblestone slab del previsto comunque meno 150 devo andare in una direzione Andiamo di qua sento della musica in giro sta succedendo qualcosa Allora stiamo attenti ovviamente Allora mi avete detto che questo c'ha loyalty quindi anche se io lo lancio nel vuoto Dovrebbe tornare indietro che figata Colpiamo colpiamo ammazziamo Voilà non è morto boom ora è morto Perfetto come vedete Non devo buttare la roba qua mi serve non sono in minecraftita va bene ok ci ritroviamo con il loyalty Ti mi avete detto se lo butti nel vuoto Proviamo a buttarlo di là vediamo se torna indietro Oddio no 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 perché mi fido di voi mortacci mia no non è che è finito nella lava Ma dico io ma che cazzo che fail Questo questo mi conferma una cosa va bene leggere tutti i commenti del mondo ma porca puttana mai dargli retta Che cazzo per sono incazzato ora è vero che ho detto tipo tre commenti diversi tre commenti diversi mi dicevano No sul ritardo c'hai loyalty puoi buttarlo non succede nulla mortacci Mortacci puoi lanciarlo anche nel vuoto cheat mannaggia o Un'arma così bella così forte non ce l'ho più un secondo ce l'hai un secondo dopo non ce l'hai più Cos'è la vita sinonimo della vita una metafora più che un sinonimo probabilmente uguale. Allora per risparmiare blocchi mi muoverò in questa direzione meno 150 Almeno 150 qual'era meno 150 devo andare verso 50 quindi da Questa parte andare circa di qua va bene iniziamo il nostro percorso chissà se trovi uno qualcosa tra l'altro spero di sì è un po lunghi Nell'effetti e forse non ho abbastanza slab non ho abbastanza slab o pochi slab Cioè abbastanza slab da arrivare vicino a quel qualsiasi cosa ci sia ma non abbastanza per arrivarci vedete Vedo qualcosa ok è un bottone quindi evidentemente mi teletrasporta da qualche parte Immagino ok sono almeno 150 ora è dritto di là ma devo anche salire tra l'altro e ho finito i blocchi Mamma mia quanti blocchi servono tipo più di tre stack 4 stack 4 stack di slab porcaccia va bene va bene li vedo anche tutta la mia isoletta e tutto quanto creato il ponte che sembra il serpente snake del nokia giochino per il telefono ottimo c'è anche un creeper sarebbe stato molto comodo Ucciderlo con il mio bellissimo tridente che non esiste non possono no 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 non esplodere non possono camminare sugli slab Cioè non è che non possono sponare non posso proprio starci sullo slab che una cosa bella una cosa molto bella Vuoi morire ma scusa Muori un po ok io non ci credo il mio il mio tridente io Boia sono leggermente triste per questo fail signore e signori ma sapete come si dice nella vita devi accettare tutti I consigli che ti danno l'importante è non seguirle ok dovrà avere abbastanza blocchi perlomeno per riuscire a Cliccare a questo primo bottoncino vediamo cosa avvenne fuori sono curioso Spero sia un qualche tipo di ricompensa magari un'arma un'arma visto che ho per ha buttato via un'arma fortissima Mannaggia a me non ci credo raga non ci credo un tridente di quel tipo bello Non è che ho solo 60 blocchi sai che forse non ce la faccio ma invece sì per poco ma ce la faccio ci siamo quasi ci siamo quasi incredibile Ancora poco non devo neanche fare il pillarone perché mi basta poter cliccare il bottone boom Dove sono? Wilfar ok C'ha no ah c'è una mappa cosa c'è nella mappa c'è assolutamente nulla va bene magari un nome particolare No allora dammi la spada c'è qualcosa di figo qui qualcosa di segreto magari Nascosto a qualche parte oltre al letto ma posso prendere queste cose? Posso va bene allora mi porto a casa un letto e una cesta non so se posso rompere queste cose ma potenzialmente sì Va bene vediamo cosa c'è qua fuori Oddio è proprio un'isola È proprio un'isola ma dove cacchio? Questa è la nave di Wilfar Che figata Ok Sembrerebbe esserci tipo Un sottocoperta Con niente all'interno delle ceste ma Ci sono questi qua Sono No sono vuote e c'è il ritorno all'isola Ok E guarda ti dirò Proverò a salire qua in cima perché secondo me potrebbe esserci una cesta Con qualcosa anche perché per ora Sì tutto figo Ma non ci sono ricompense per aver trovato questa roba Oltre al letto Infatti c'è una cesta con dentro Un totem della non morte Delle barche Ne prenderò solamente una di barca E il vetro ma il vetro lo lascio lì perché non mi interessa Ora il totem della non morte potrebbe essere interessante C'è da capire Oh mamma mia che è sta cosa Mangia un subacqueo Ma porca vacca Che figata Se avessi Se avessi ancora il tridente Potrei anche entrarci qua dentro E provare a far cose Purtroppo il tridente non gelò Non ho manco del cibo Pochissimo perlomeno Quindi dovrei buttarmi E provare a vedere se c'è qualcosa di interessante Qui Ah ci sono i guardiani però Niente si boia Alla faccia dei guardiani Ok è un po' problematica da sito eh Qua c'è pure il coso che ti butta giù Non so se è una cosa positiva In modo facile Oh 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 Eh no Eh vedi mi ha dato il mani in fatiglia Ma Cosa c'è la solita Proprio una cosa dei guardiani Allora sicuramente servirà per completare qualche missione Sappiamo che c'è Non sono nelle condizioni adeguate per affrontare una cosa di questo tipo Per diversi motivi Primo di tutti Non ho cibo Cioè non posso recuperare vita Quindi stiamo un po' calmini A questo punto mi sale la domanda Che cosa sarà mai l'altro L'altro pulsantino Bella domanda Va bene Intanto siamo qui Posso piazzare un letto Che già mi sembra un'ottima cosa E ho mani in fatiglia per 4 minuti Mamma mia Ok ragazzi è passato nel tempo dall'ultima clip A una certa Ma pure smesso di funzionare il Come si chiama il microfono Non funzionava più Ho iniziato a registrare una clip Volevo partire a tutto carico E non funzionava il microfono A casissimo Lasciando il fatto che mi fa spawnare nell'acqua Quando finisco di fare le mie cose nel letto Andiamo a data location Che è a meno 150 150 Quindi da questa parte Dovrò avvicinarmi al portale del nether Quindi lo userò come scusa Anche per avvicinarmi Al portale del nether Nel senso andiamo a spawnare anche quest'isola E poi andiamo dritti a quest'altra location Sperando che ci sia qualcosa di interessante Sì quest'isola sembra abbastanza lontanina in realtà Perché io sto piazzando blocchi da un bel po' Eppure non vedo nulla che mi blocca Ah eccoci Allora sembrerebbe essere Abbastanza Oh mio dio aspetta Nooo Ho fatto un errore madornale Ho fatto un errore madornale Allora devo recuperare Devo recuperare assolutamente Ho fatto un errore grave E l'errore è stato il seguente Ho utilizzato i slab della base Per fare questo ponte Ma i slab della base Non sono a prova di mob Anzi il contrario Favoriscono lo spawn di mob Prendiamo un po' di charcoal Che mi è avanzato dalle missioni E facciamo delle torce Subito Proprio subito E le useremo Per bloccare Questa Questo errore che abbiamo fatto Mettendo delle torce Perlomeno non possono spawnare mob Sì magari le torce Potevo usarle Per fare qualcosa di più sensato Però quando fai una svista del genere Ti devi adattare Va bene Ok Ci siamo Abbiamo qua La base del portale Che poi faremo con calma Stavo guardando in giro Se per caso C'era una cesta Qualcosa del genere Ma sembrerebbe di no Magari poi lo spawneremo meglio Quest'isola E ora devo continuare Ovviamente io Meno 50 Cioè Fino a 150 E meno 150 Quindi deve essere Bella lunga Siamo quasi Non mi bastano i blocchi Non ho mai abbastanza blocchi 47 48 49 E Questo è il 50 E ora devo andare Da questa parte Perché è meno 150 E non è dritto di qua Oh lo vedo Lo vedo in lontananza Guarda lì Vicino alle coordinate Va bene Potrà essere una cosa abbastanza lunga Ma a noi non interessa Ci proviamo Ultimo stack Mi basterà? Secondo me No Mamma mia Così vicino Eppure Così lontano Ah Ah Eh vabbè Il bello che c'ho Sti sette pezzi di cobblestone Che non ho trasformato Avrei potuto farlo In realtà Vabbè Vabbè Non ci cambia niente ragazzi È solo un viaggio in più Viaggio della speranza Tra l'altro Tutti questi super ponti Che stiamo costruendo Potremmo utilizzarli Non so come In qualche modo Come base Per ampliare la nostra struttura Magari non è un'idea così brutta È un'idea difficile Da realizzare Ma non è un'idea brutta Ma così sono più 12 No Bisogna ancora un po' di roba Ah Comunque Vi ricordate Quelle cose che ho trovato Il monumento Il grano E i semini Ho deciso Senza troppo indugio Di utilizzarli Perché non avevo panini Cioè mi sono fatto un panino in più Ma due panini in più Con quel grano che avevo E quindi ora faremo anche una farm Bellissima E simpaticissima Indominate un po' Di grano Esatto Così possiamo anche fare delle missioni Anche se Non so Secondo me Ce lo dà come ricompensa Di qualche altra missione Sono abbastanza sicuro Ecco Diciamo che 30 slab Dovrebbero bastarmi Sono abbastanza sicuro Perché c'era una missione Proprio sul grano E Cioè Non tutti hanno l'idea Di andare a saltare Sul grano Sopra Nel monumento Per prendere il grano Anche a me è successo per caso Quindi Sono curioso Sono curioso Sono curioso di sapere Se ci sarà o meno Una cosa di questo tipo Ora Spero che 30 slab Bastino Che coordinate siamo Meno 100 Dimmi 120 125 Ok ce la facciamo Tanto mangiamo gli ultimi Tre panini Che abbiamo a disposizione Perché Senza sti panini Poi arrivo Arrivo sull'isola della morte Muoio Dimmi che ci siamo quasi Ti prego Dai dai Ah l'ho superato Addirittura Che goduria Andiamo E ora sono Oddio dove sono Ma che cos'è Ricky killer 99 Ok Le ceste sono vuote Qua non posso rubare niente di utile Purtroppo Qua c'è il ritorno all'isola C'è un ponte E una palla Ma che figata Vediamo C'è un botto di ossidiana Che io potenzialmente Potrei raccogliere Ma non raccoglierò Delle ceste vuote E Dell'acqua Va bene Cosa sono Sono delle Oddio Ferro Oro Perne Di penso ci sia uno spawner di ragni Ottimo Ragazzi sto volando Sto volando Alla grande Allora lo so che abbiamo appena iniziato Questa mappa Ma voglio fare complimenti a questi sviluppatori A questi creatori di mappa È la loro prima mappa Ed è molto molto bella Cioè Già solo il fatto Oh mio dio C'è una cesta nascosta Con due libri E dentro di due libri Ci sono due coordinate Di posti lontani Con dei bottoni Che ti possono impostare Sì altrimenti Sì altrimenti Sì figh È fighissimo Però allora Non sono vestito In modo adeguato Per affrontare Un dungeon E una caverna Cioè Proprio non riesco a muovermi Quindi non si può Quindi noi ci vediamo domani Alle sette Con il prossimo episodio Della serie delle sette Iscrivetevi al canale Se ancora non avete fatto Che sulla campanellina Per un paio Devi nessun video Io vi saluto Ciao a tutti A tutti A tutti